L'associazione nasce da un bisogno, da un'esigenza, è un'associazione prevalentemente di familiari e di volontari nata per poter dare un'opportunità, una possibilità a giovani con disabilità grave e complessa finita la scuola che è la parte dove poi viene a mancare un po' qualsiasi tipo di opportunità soprattutto se parliamo di ragazzi con disabilità complesse. L'associazione tra gli obiettivi, tra le finalità è quello quindi del promuovere il diritto all'uguaglianza di tutte le persone e l'inclusione sociale e la possibilità di un'occupazione lavorativa. Per questo l'associazione è impegnata nella realizzazione di progetti con attività socioeducative e occupazionali diurne e con la realizzazione di percorsi finalizzati all'autonomia e percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare quindi il cosiddetto dopo di noi, un dopo di noi che chiaramente va costruito nel durante noi. Tra le finalità dell'associazione c'è quella, diciamo, l'inclusione sociale in primis perché non si può pensare. Pensare che persone solo perché vivono una condizione di vita diversa fatta di particolari disagi debbano poi finire diciamo nell'isolamento, in casa o comunque nel diventare invisibili. Quindi l'inclusione sociale e la possibilità di rendersi autonomi, di sentirsi protagonisti e poter realizzare con l'aiuto di cui hanno bisogno, con i supporti di cui necessitano, attività lavorative perché sappiamo quanto è difficile l'inclusione lavorativa, le categorie speciali per le persone con disabilità e ancora di più se la disabilità diventa grave. Il bene comune è una società che se riesce a rispondere ai bisogni dei più fragili è una società migliore per tutti. Quindi diciamo che il bene comune dovrebbe essere questo, una società alla portata di tutti. Assolutamente sì, perché noi diciamo che proprio spinti da quelli che sono poi i dati Istat ci rendiamo conto di quanto sia necessario il nostro impegno. Cioè il terzo settore, il privato sociale, oggi rappresenta un importante sostituto a quello che poi dovrebbe essere l'impegno delle istituzioni. Quindi i dati Istat sono fondamentali e sono per noi un po' la spinta, la carica ad andare avanti, a non mollare.